Il Connubio è perfetto, quello che è l'arte della ceramica famosissima, insieme a tutto il mondo, quella di Vietri sul mare, quella che è la nostra cultura gastronomica, tutta una serie di tradizioni legate al nostro paese che convivono insieme a questo spettacolo. Quindi l'amministrazione ha voluto, in questo caso, fare proprio fronte a questi due obiettivi principali. Tutto pronto per Vietri Cultura? Si parte con Vietri in scena. Sì, siamo in direttore del rive. Si parte il 12 luglio con Vietri in scena, il primo degli appuntamenti. Avremo concerti in musica jazz e musica classica, un'alternanza, presso la villa comunale di Vietri. È un grandissimo cartellone, diciamo la verità. Sono oltre 120 eventi che abbiamo spalmato da luglio fino a giugno dell'anno prossimo. E quindi abbracciamo un pochino tutti quelli che sono in settore della cultura. Dalla presentazione di libri con la congrega letteraria, ormai al suo quinto anno di lavoro, e quindi avremo una presentazione massiccia, diciamo sempre ai ragazzi, perché quasi ogni settimana ci sarà qualcuno che verrà a presentare i libri. Abbiamo il teatro, quindi svilupperemo con il teatro quelle che sono le arti teatrali, ma affiancandoci poi con il conservatore Martucci e grazie all'intervento e alla professionalità del professore Luigi Avallone, che è il nostro direttore artistico, facciamo tutta questa serie di concerti. E quest'anno poi, a dicembre, con il professore Enzo Biffi Gentili avremo di nuovo un viaggio attraverso la ceramica e l'intervento sarà mirato sulla rigiola, la piastrella vietresa, e quindi cercheremo di far dare un nuovo sviluppo a questo, che è uno dei nostri più grandi patrimoni, facendo una serie di interventi, puntando verso quello che ha detto il professore Biffi Gentili, la rigiola 3000 praticamente, e quindi il concorso internazionale e nazionale. Abbiamo poi tutta una serie di incontri ed appuntamenti che finiranno a maggio con la musica e la ceramica. Un'altra novità quest'anno, tra aprile e maggio, in cui ci sarà il connubio fra la musica e la ceramica, con i ceramisti vietresi che esibiranno, ascoltando la musica, e creeranno delle opere ad hoc in quella serata. Quindi una rassegna ricca di appuntamenti e mirata anche a valorizzare le eccellenze locali. Ovviamente, e questo devo dire, grazie alle associazioni del territorio, noi facciamo la rivalutazione di tutti quelli che sono i prodotti tipici e quelli che sono le tradizioni. Partiamo il 14 luglio con la festa del limone nella frazione Dragone, con l'associazione Trasbonea, che ormai da oltre 20 anni si occupa di tutto quello che si può fare con il limone. Noi con il limone facciamo tutto, dalla semplice limonata anche alla cura e alle creme. Quindi cerchiamo di valutare quello che è uno dei nostri prodotti tipici, il limone. E poi tutte le associazioni del territorio che fanno una serie di appuntamenti, soprattutto nel periodo estivo, una rievocazione storica. E poi abbiamo puntato anche su quelli che sono i percorsi religiose. E quindi su questo devo dire che siamo già partiti dal 24 giugno con la festa di San Giovanni e termineremo con l'8 dicembre alla festa dell'Immacolata, che è una processione tipica di Marina. Si parte dalle 3 di notte, quindi è una processione notturna. Si fa la nottata e si aspetta l'accensione dei faloni.